E' un piacere vedere così tanta partecipazione per il terzo anno consecutivo, abbiamo rinnovato il nostro legame d'amicizia con le due squadre salernitane Longobarda e Arechi Calcio per quanto riguarda la parte sportiva. Pasqualino come tutti quanti noi gli amavamo non è più con noi ma questo memorial ci aiuta a non dimenticare, ci aiuta a stare tutti uniti in un momento particolare, io ringrazio soprattutto la famiglia che ha avuto e ha la forza di continuare e di andare avanti e anche di aver voluto a tutti i costi questa manifestazione. Si è evitato appunto i soliti palloncini, anche quelli biodegradabili sappiamo che contengono delle percentuali di plastica e si risperdono nell'ambiente, quindi la decisione etica di piantare appunto una pianta d'ulivo simbolicamente che rimarrà con noi negli anni. Affrontiamo di nuovo la Longobarda che abbiamo affrontato sette giorni fa nel Memorial a cui ci avevano invitato, affronteremo la Arechi Calcio, due compagini che affronteranno la seconda categoria al prossimo anno, fra sette giorni invece si sarà la partita d'esordio. Grazie. Grazie.